Il Gladiator perde 0-1 in casa contro il team Altamura, siamo con il mister Terro Grimaldi. Qual è il giudizio sulla partita? Partita bloccata nel primo tempo, abbiamo preso un gol da Polli che poi ha condizionato tutta l'intera partita. Il secondo tempo, secondo me, è giocato a buoni ritmi, ci siamo riversati nella loro metà campo, però abbiamo giocato una squadra strutturata, una squadra organizzata e non era facile trovare lo sbocco, il pertugio giusto per poter fare gol. Ci abbiamo provato in varie occasioni, abbiamo rischiato qualcosa, ma è come giusto che sia, su qualche ripartenza, su qualche contropiede loro. Però anche oggi penso che i ragazzi, non vivendo un buon periodo, perché per tante situazioni che non sono qui ad elencare, tecniche e non, hanno dato il massimo e hanno cercato di portare a casa almeno un punto che poteva essere un punto importante. Però rimbocchiamoci le maniche, conosciamo solo la strada del lavoro, come è giusto che sia. Sappiamo che in questo girone ci possono stare dei momenti negativi, come in generale nel calcio. Dobbiamo riprenderci, camminato lungo. Abbiamo fatto bene il giorno d'andata e ci auspichiamo attraverso il lavoro, attraverso l'impegno massimo totale di riprendere il cammino e sicuramente rimetteremo le cose a posto. Mister, stagione particolare, anche quest'oggi sei persone assenti, sei assenti con il capitano Tomi che si è aggiunto agli infortunati e comunque poi dopo pesano tantissimo nel discorso di una partita. Sì, siamo stati un po' dai sfigati, come si suol dire, nel senso che quando hai degli infortuni da trauma vedi due ragazzi con il crociato, un altro con la tibia, un altro con la spalla, quindi non è facile. Qualcun altro ha avuto qualche altro tipo di problema, stentiamo a recuperarlo e facciamo un po' fatica su questo, non so perché, però devo dire che chi sta scendendo in campo comunque sta dando il massimo e comunque cerca di sopperire l'assenza attraverso l'impegno. Poi è chiaro che abbiamo affrontato anche oggi una squadra che comunque se la giocherà fino alla fine per la vittoria finale perché secondo me la squadra che abbiamo affrontato oggi, l'Altamura, è una squadra che al di là dei giocatori che la compongono è molto organizzata e ti ripeto, come dicevo prima, è una squadra strutturata dove ha fisicità, sono bravi sulle seconde palle, quindi non è facile affrontare queste squadre, lo sappiamo, però voglio dire anche oggi siamo stati per tutto l'arco di partita dentro, siamo stati dentro la gara e abbiamo rischiato, ti ripeto, su qualche azione di contropiede, ma nel finale abbiamo buttato dentro qualche attaccante in più per cercare di riprenderla e questo è un po' l'analisi mia della gara. Grazie a tutti.